Molti non sanno che esiste, se possiamo andare a togliere il tappo, si chiama tappo in gergo questo osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Io l'ho scoperto per puro caso, sapete, psicologo, criminologo, il dottorato, direttore di qua, direttore di là, ma non sapevo di questo osservatorio. A mia parziale, a lenire questa mia ferita narcisistica, ho scoperto che anche professori ordinari vari, che si occupano di tematiche diciamo criminologico affini, non sapevano di nuovo di questo OSCAD. Quanti di voi conoscevano l'esistenza di questo osservatorio per la discriminazione? Quanti lo conoscevano già, ecco? Quindi nessuno qui, a parte forse in prima fila, mi riferisco a persone in divisa, quindi nessuno conosceva, quindi non avete mai sentito parlare di questo. Ha visto, dottoressa? Qui accanto a me, a qualche metro, c'è la dottoressa Marlina Castaldo, che è il commissario capo della Polizia di Stato e ci illustrerà appunto cosa è, come funziona e anche qualche risultato forse di questo osservatorio. Quindi il fatto che ci sia un osservatorio vuol dire che un fenomeno, che il Ministero dell'Interno e la Polizia di Stato e l'Anno dei Carmini sono interessati a monitorare questo fenomeno. Grazie per essere qui presenti oggi. Naturalmente, no, l'avverbio non è scontato, naturalmente, diciamo, comunque, la dottoressa, come anche la dottoressa Lombardozzi, non ricevono compenso per il suo, per il loro presenza qui oggi. Così anche come il Professor Lengiardi, lo dico perché se non sembrava che, insomma, avesse ricevuto un gettone. Grazie, dottoressa, io mi metto lì e l'ascolto volentieri. Abbiamo sempre l'idea, se non il direttore non ruba troppo spazio, di fare anche raccogliere una barra due domande. Qui la dottoressa è super preparata su questo settore, fate tutte le domande che volete. Grazie ancora per essere qui oggi con noi. Ringraziando per la splendida presentazione, mi avete già presentato, sono il commissario capo Marina Castaldo, sono stata per due anni referente OSCAD e per me oggi è un piacere, oltre che un onore, avere l'opportunità di parlarvi di un istituto che nasce nel 2010 grazie all'intuizione dell'allora capo della polizia Antonio Manganelli e che nel 2010 era qualcosa di assolutamente innovativo. Oggi è qualcosa che rimane innovativo ma che è diventato efficace. Il capo della polizia Antonio Manganelli fece una riflessione, pensò che a predisporre uno strumento giuridico di tipo interforze per esercitare un'attività di contrasto completa e globale contro gli atti discriminatori era prima ancora che un impegno di natura istituzionale, un segno di civiltà. Io ho avuto cura di mettere in grassetto questa locuzione, segno di civiltà, perché secondo me va a sintetizzare quello che è un passaggio culturale che è avvenuto durante tutto il novecento, quando finalmente si è capito che avere un'attività energica di contrasto verso determinati fenomeni ci identifica non solo come istituzioni valide ma come istituzioni di natura civile e quindi hanno un portato universale. L'OSCAD viene così istituito all'interno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e a capo ha il Direttore Centrale di Polizia Criminale. È un soggetto interforze che significa praticamente lavorano all'interno dell'OSCAD polizie e carabinieri che hanno però delle competenze speciali, hanno fatto un particolare percorso di formazione per cui hanno maturato attraverso la formazione attraverso l'esperienza, strumenti e tecniche e sensibilità per predisporre opportuni mezzi per contrastare i fenomeni. Sto rimanendo volutamente sul vago perché in realtà capire quali sono le funzioni dell'OSCAD non è un passaggio logico così obbligato. Partiamo dalla prima, la prima è la più semplice, mantiene i rapporti con le associazioni rappresentative degli interessi lesi. Perché? Perché praticamente contrastare il fenomeno discriminatorio non significa avere una rubrica predeterminata di quali possono essere i problemi e quali possono essere i soggetti portatori di quei problemi, ma c'è bisogno di confrontarsi continuamente con la società. La discriminazione è un fenomeno che si evolve nel tempo. Ciò che noi identificavamo come discriminazione 15 anni fa, oggi è assolutamente semplicistico come identificazione. Quindi le istituzioni hanno necessità di dialogare continuamente con il tessuto sociale e lo fanno prima di tutto attraverso i rapporti con le associazioni che sono in mezzo alla comunità che raccolgono gli stimoli e le sofferenze della comunità stessa. Il secondo grande problema per capire veramente l'OSCAD è capire quando ci dobbiamo rivolgere all'OSCAD e quando ci dobbiamo rivolgere prende il suo cugino istituzionale che è Lunar. Lunar potete leggere è un ufficio che viene stato istituito all'interno di un altro ministero che è il ministero delle pari opportunità e che lavora a stretto contatto con l'OSCAD. Vedete il 7 aprile 2011 è stato registrato un protocollo d'intesa tra OSCAD e UNAR. Allora voi mi chiedete ma se OSCAD si occupa di attività di contrasto alle discriminazioni e l'UNAR si comporta poi praticamente all'attività di contrasto alle discriminazioni, perché hanno creato l'OSCAD? Un motivo c'è ed è anche un motivo logico e valido perché in realtà fanno cose diverse in casi diversi. Questo che cosa voglio dire? L'UNAR è il soggetto preposto per raggiungere un obiettivo che è quello delle pari opportunità, quindi il suo valore portatore è le pari opportunità. Quindi si interfaccia con il fenomeno discriminatorio avendo le stesse problematiche dell'OSCAD, cioè ogni volta si deve chiedere questa ipotesi che ho davanti è realmente un'ipotesi discriminatoria, ma lo fa quando queste problematiche non coinvolgono l'ambito della sicurezza. L'OSCAD lo fa quando c'entra l'ambito della sicurezza. Ora io vedo che le vostre facce non sono assolutamente soddisfatte dalla mia risposta, ma questo perché? Perché in realtà la mia risposta è parziale, è volutamente parziale, perché in realtà buona parte di questo intervento si fonda sulla necessità di creare una risposta a questa domanda. Quindi immaginiamo mentalmente UNAR, discriminazione, OSCAD, discriminazione più sicurezza e andiamo avanti. L'OSCAD raccoglie le segnalazioni. Raccoglie le segnalazioni da parte di chi? Allora abbiamo detto che è un soggetto che lavora nell'ambito della sicurezza, quindi il primo soggetto a segnalare è sicuramente il commissariato di polizia, la questura. Può essere un'istituzione. Il secondo soggetto è UNAR. UNAR ha ricevuto un caso, ha detto guarda mi è stata segnalata immaginiamo dal giornalista questa ipotesi, però dato che il fatto racchiuso dentro questa ipotesi è un fatto che interessa la sicurezza perché per esempio è un reato, guarda OSCAD, secondo me questa cosa ti appartiene. Ma leggete, possono segnalare istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, cioè voi cittadini direttamente attraverso una mail e questa cosa è stata pensata nel 2010, potete mandare una mail all'OSCAD per dire guardate è successa questa cosa, secondo me siete forti ovviamente di diciamo la spiegazione che vi ho fatto oggi, quindi sapete che è discriminazione e più sicurezza, secondo me rientra nell'ambito di intervento dell'OSCAD. ora le segnalazioni da parte dei cittadini sono segnalazioni che sono fondamentali, però per tutto quello che ci diremo da questo momento in poi in realtà necessitano di un filtro, perché? Perché in realtà è concretamente molto difficile capire quando un fenomeno riguarda innanzitutto la sicurezza e in secondo luogo la discriminazione. Quindi premesso che avete questo potere che è un potere assolutamente sensazionale, considerando che tutto ciò è stato immaginato praticamente otto anni fa, dieci anni fa, è utile, io lo consiglio sempre, interfacciarvi con un ufficio di polizia, perché l'ufficio di polizia fa la prima scrematura che riguarda l'ambito sicurezza, che dice guarda la lite con il tuo vicino di casa può o meno riguardare il settore sicurezza, perché anche quello è un luogo di discriminazione, e poi fa il secondo passaggio con l'OSCAD e vede se quella famosa lite con il vicino di casa riguarda l'ambito discriminatorio. Ma perché segnaliamo le cose all'OSCAD? Innanzitutto perché diciamo raccoglie i dati su tutto il territorio nazionale e quindi si fa un'idea di quello che succede in Italia, si fa un'idea se per esempio il Piemonte, la città di Torino, può essere o meno un luogo critico per determinati fenomeni discriminatori, magari a differenza di Roma, Napoli, Milano, ma soprattutto fa una cosa utile, molto più utile di quella che è l'attività di raccolta dati, cioè crea gli strumenti perché quella situazione sia gestita. Quindi immaginiamo l'ipotesi di una lite, di una lista in discoteca che abbia dentro di sé i germi di matrice discriminatoria, che succede? La segnala, il commissariato di polizia raccoglie questa notizia di reato, chiama l'OSCAD, dice OSCAD, c'è questa situazione che dobbiamo fare e l'OSCAD ha quelle persone, poliziotte e carabinieri, l'abbiamo detto prima, che sono persone specializzate e danno delle direttrici per affrontare quella situazione, in modo tale che in particolar modo quando questi eventi avvengono in luoghi dove non c'è personale specializzato, perché per esempio Torino già ha una realtà più strutturata sia per quanto riguarda la polizia sia per quanto riguarda i carabinieri, perché ovviamente è una città molto grande, cioè molto personale, ma quando uno stesso evento accade nel paesino e nei paesini, diciamo la cronaca ci insegna che accade qualunque cosa, allora in quel caso avere un filo diretto con una persona specializzata che può darti una traccia di intervento è fondamentale. Questa è la slide che terremo sempre a mente durante tutto l'intervento ed è lo spunto delle nostre riflessioni. Quando dobbiamo rivolgersi all'OSCAD? Quando dobbiamo rivolgerci all'UNAR? Fermare stando che potete anche per sbaglio rivolgervi all'UNAR e poi passano le cose all'OSCAD e viceversa. L'OSCAD ha il suo ambito di intervento quando un problema ha i connotati della sicurezza e di natura discriminatoria. E quali sono i connotati di sicurezza e discriminatoria? Sicuramente il primo ambito di intervento che poi ci allaccia un poco anche a quello che è tutto il ferrucio di questi incontri sono i cosiddetti reati d'odio. Reati d'odio, hate crimes, perché è stata una definizione partorita dal mondo giuridico anglofono e sono tutte quelle tipologie di reati che si fondano sull'odio e l'odio porta a una conseguenza, quella che è la discriminazione. Ora, se noi andiamo a sfogliare il codice penale, noi troveremo libro primo, libro secondo, reati contro la persona, reante contro il patrimonio, noi non avremo mai un titolo dedicato ai reati d'odio. Perché? Perché in realtà i reati d'odio si sviluppano con una tecnica normativa cosiddetta ammacchia di leopardo. Significa che sono sia reati specifici che sono stati legiferati perché in quel momento storico c'era una necessità storica di contrastare un fenomeno d'odio. Quindi immaginiamo per esempio le figure di reato che sono state predisposte dalla legge Mancino, prima ancora dalla legge Scelba, eccetera, sia sono figure di reato che sono assolutamente dei reati di natura, potremmo dire, generica, non hanno un connotato specifico. Per esempio il delitto di rapina. Il delitto di rapina può essere tanto un delitto di rapina quanto un hate crime. Perché se io vado a rapinare quel soggetto in quanto sono guidato da una finalità discriminatoria, allora a quel punto quello che io sto facendo si chiama sempre rapina, però conosce una sovraqualificazione. Cioè quello che io sto facendo è un reato d'odio e quindi io commissariato di polizia devo interessare l'OSCAD. Ok? Sugli hate crimes ovviamente tutti i grandi penalisti si sono arrovellati perché i penalisti quando vedono un reato hanno sempre questo grande problema. Cioè capire un poco qual è il bene giuridico tutelato. È come guardare una conchiglia e pensare qual è il mollusco che c'è dentro. Perché in realtà capire che bene giuridico c'è dentro un reato cambia tantissimo. Cambia in una maniera allucinante. Soprattutto per quello che è lo stato della giurisprudenza oggi. Allora si sono formulate una serie di teorie che io ho, diciamo, tentato di semplificare in questi due puntini. Ordine pubblico o no? Dignità umana. Cioè c'è stato un momento in cui si è capito che questo fatto che lo Stato doveva andare a intervenire con lo strumento che ha più forte che è la legge penale mediante l'istituzione di reati era giustificato dal fatto che c'era un bene giuridico enorme dietro. Che è il bene giuridico più grande che tutela la Costituzione. Che è la dignità umana. Quando leggiamo la Costituzione vediamo l'articolo 1, vabbè ce l'ho stato, l'articolo 2 c'è la dignità umana. E perché la dignità umana? E ce l'ha spiegato un po' con la Corte Costituzionale. Ha detto guarda quando io vado a toccare una persona, un bene, esprimendomi con un reato d'odio, io vado a intaccare un qualcosa che è il nocciolo duro della dignità umana. Che è la relazione di riconoscimento. Cioè la nostra Costituzione tutela la nostra dignità. Non solo perché noi siamo noi stessi, ma perché noi siamo riconosciuti come tali all'interno della società. A questo punto tutti i giuristi si sono tranquillizzati perché hanno detto allora questi reati d'odio non hanno semplicemente un fondamento che appartiene alla legge ordinaria che istituisce il reato. Hanno in realtà delle basi molto profonde che sono le radici di quest'albero. E sono innanzitutto la Costituzione. L'abbiamo detto, è l'articolo 2 della Costituzione che ci parla di dignità umana. È ovviamente l'articolo 3 della Costituzione che ci parla di eguaglianza. Abbiamo la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Cioè quella famosa carta quando nel 1948 tutti i chi stati si sono incontrati e hanno capito che garantire dei diritti non doveva essere un procedimento burocratico. Non doveva avere come destinatari i cittadini degli stati che stavano firmando quella carta. Ma dovevano appartenere a tutti. Cioè dovevano fare quello che poi anni dopo Manganelli ha ripreso una garanzia di diritti a fronte come segno di civiltà. L'uomo in quanto tale. Viene istituita poi l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, una ventina d'anni dopo, che istituisce l'alto commissario sulle minoranze. Qua ci troviamo a metà strada del percorso, siamo nel 75. Viene istituito questo alto commissario per le minoranze praticamente è importante perché viene istituito. Però poi praticamente non gli vengono dati i pareri. Cioè lui semplicemente riscontra delle situazioni di criticità e poi fa dei pareri di natura non vincolante. Quindi essenzialmente si poggia su quella che è la forza diplomatica di queste istituzioni. Abbiamo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nel 2007, all'articolo 21, sancisce il principio di non discriminazione. E poi soprattutto abbiamo la CEDU. E la CEDU, tutti i giuristi sanno perfettamente che negli ultimi anni è stata ripresa, per quanto abbia comunque la sua età, una cinquantina d'anni ce l'ha forse pure di più, è stata ripresa ultimamente ed è stata qualificata in termini di norma interposta della Carta fondamentale. Tutto questo discorso sulle radici dell'albero ci consente di dire che gli hate crimes ci sono, sono ovunque, sono intorno a noi e sono importantissimi. Una particolare forma di espressione dei reati d'odio è rappresentato dai hate speech, che sono i discorsi d'odio. E questi sono quelli che creano più problemi. Creano più problemi a noi, diciamo, quando dobbiamo valutare, creano molti problemi ai giudici quando poi devono emettere la sentenza e ora voi che siete diventati segnalatori o SCAD vi interrogerete ogni giorno su questi hate speech. Ora, gli hate speech, come molte cose della vita, possono essere soft o hard. Quando, diciamo, voi incontrate gli hard hate speech, voi non avete particolari problemi. Perché di che cosa stiamo parlando? Sono i discorsi d'odio a contenuto forte. Quindi voi che li guardate sapete perfettamente che si tratta di un reato e che ha una natura discriminatoria. Cioè, un discorso di ricostituzione, non so, di costituzione che va a incitare la discriminazione nei confronti di determinati soggetti. Non so, immaginiamo il discorso di ricostituzione del Ku Klux Klan, che è un hard hate speech, non ci sono dubbi. Quello che crea tantissimi problemi per i giudici quando devono andare ad applicare la legge sono i soft. Perché i soft sono praticamente quei discorsi di odio che non hanno un contenuto diretto di natura discriminatoria, ma sono quei discorsi che vanno a creare dei contesti discriminatori. Queste tipo di problematiche in genere si riflettono nel mondo del lavoro, quando ci sono per esempio episodi di mobbing. Per cui andare a capire quando questi discorsi hanno veramente una funzione discriminatoria e sono penalmente rilevanti, in realtà è un procedimento molto difficile. Perché tutti sanno che la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. E capire dove si mette questo paletto nel quotidiano è difficilissimo. Però la Corte Costituzionale è stata netta. Ha detto guardate, voi non mi dovete venire a fare ricorsi dicendo che il tuo discorso soft hate speech è in realtà una forma di libertà di espressione e quindi c'è una forma di legittimità costituzionale. Perché? Perché la libertà di espressione in Italia è tutelata la Costituzione. Ma da che articolo? 21. La dignità umana da che articolo è tutelato? Il secondo. Allora, probabilmente esiste un ordine nelle cose, no? Così come i padri costituenti hanno messo un ordine tra gli articoli, anche noi dobbiamo avere un ordine nei valori. E la dignità umana viene prima della libertà di espressione. E la libertà di espressione ha valore di essere tutelata solo in quanto è in raccordo, quindi in lettura coordinata con la dignità umana. qui avremo una serie di normativa che vi interesserà tantissimo, che è rappresentata da tutta l'evoluzione normativa che prende dalla legge scelba, si è avuto fino a qualche anno fa. E sono praticamente gli hate crimes, quelli là che sono più facili da riconoscere. Questa abbiamo la 654 e la 75, infatti dice chi propanga, propaga idee fondate sulla superiorità, l'odio razziale, questo è un hard hate speech, non mi crea problemi. In realtà questi articoli i giuristi più attenti sanno che sono stati poi ripresi, rimodulati dalla legge Mancino, quindi c'è stata una stratificazione normativa. Arriviamo alla legge Mancino 1993. È una legge di cui a periodi si parla tantissimo. In genere se ne parla perché è stato comunque un momento forte dal punto di vista istituzionale nel porre un segno di tutela con la legge penale di determinate fenomeni e condotte. Ma tutti facciamo la legge Mancino per l'articolo 3. Perché? L'articolo 3 è la cosa più innovativa che ha fatto la legge Mancino, cioè quella che ha creato la situazione per cui quando io vi parlo di hate crimes non vi parlo solo di leggi specifiche, ma io vi parlo di tutti i reati. Cioè ha creato un aggravante, un aggravante che si può applicare al mio delitto di rapina, al mio delitto di furto, al reato di diffamazione, eccetera. E ti dice guarda quando un determinato reato è commesso per una determinata finalità discriminatoria che nel 1993 si immaginava che la discriminazione potesse essere solo questa, cioè odio etnico, nazionale, razziale e religioso. Vedete come cambia la società nel tempo? Allora io ho stato tutelo, diciamo presso una più forte tutela all'azione penale con un aggravante che non è oggetto di bilanciamento. Questa è una prima rilevazione, non è la rilevazione di Oscar, è molto più, è parziale, perché questa è una rilevazione che si basa su quelle che erano potremmo dire forse tutto ciò che è accaduto fino con il vecchio modo di vedere le cose. Cioè quando si parlava di reati discriminatori solamente riferendoci a determinate tecniche normative e fu fatta questa rilevazione proprio sulla regione Piemonte. 2015-2016 vedete abbiamo un po' di reati, apologia del fascismo, accesso agli stati con emblemi e simboli razzisti, eccetera. no, i numeri sono abbastanza bassi e gli esperti di statistica mi insegnano che cosa? Che quando i numeri sono bassi in una statistica significa due cose, o che diciamo dobbiamo dirci felici perché in tutto il Piemonte ci sono stati solo otto casi, quattro casi, tre casi, oppure perché c'è un problema più grande che è rappresentato dal sommerso, cioè le cose non vengono denunciate. Però noi abbiamo detto anche un'altra cosa, che OSCAD ha una funzione quando si parla di discriminazione più parolina sicurezza. Quindi abbiamo riempito la parolina sicurezza sicuramente con il termine hate crimes, quindi i reati dell'odio che abbiamo imparato a essere tutti i reati che hanno una funzione discriminatoria, ma anche quando noi non stiamo procedendo penalmente. Questo che cosa voglio dire? Tutti conoscono l'articolo 1 del UPS, cioè che esprime quella che è una funzione degli ufficiali di pubblica sicurezza, che è la composizione bonaria dei conflitti. Cioè voi sapete che quando litigate con il vicino di casa, non è detto che dovete per forza citarlo davanti a un tribunale civile o citarlo davanti a un tribunale penale, ma avete la terza via, che è quella di presentare un esposto in commissariato dove rappresentate la vostra istituzione e l'ufficiale è chiamato a comporre il dissidio. È uno strumento che non ha natura vincolante, nel senso che quello che viene composto all'interno del dissidio poi ha un po' fine in se stesso, nel senso è importante raggiungere un accordo. È uno strumento assolutamente utilissimo, perché comunque consente che determinate situazioni si arrestino un po' prima, non si deteriorino nel tempo. Però perché vi sto parlando di questa cosa? Perché quando voi mi presentate l'esposto sulla composizione bonaria del dissidio e io mi rendo conto che voi state litigando col vicino di casa perché c'è un problema discriminatorio alla base, io devo segnalare OSCAD. Quindi la segnalazione OSCAD è un qualcosa di più grande dei reati. Però abbiamo detto che noi abbiamo un secondo problema, abbiamo capito che cos'è la parola sicurezza, che significa penalmente rilevante, ma significa anche trattazione di esposto, perché no, ordine pubblico, controllo del territorio, quant'altro. Ma il secondo problema è rappresentato dal fatto che io devo capire che noi stiamo parlando di un evento discriminatorio. per esempio, se voi siete, immaginiamo, milanesi, il vicino di casa è napoletano e voi state litigando, detta così io non lo so se c'è un problema discriminatorio alla base o meno, devo capire di che cosa si sta parlando. E questa cosa è una cosa complicatissima perché non appartiene alla regola del diritto, cioè noi siamo abituati a usare i testi di legge quando lavoriamo. E quindi ci siamo dovuti rivolgere ad altre branche del conosciuto che sono appunto quelle della sociologia. Ora, in sociologia esistono, penso, mille scuole di dottrina su quante sono le scuole di dottrina che si occupano di questa cosa. E soprattutto c'è chi dice, no, guarda, su di minoranza e discriminazione ci sono 14 teorie, c'è un altro che dice, ce ne sono sette, c'è un altro che dice, non so perché usano sempre i multipli di sette per fare queste cose. Comunque, alla fine, non so perché, siamo tutti quanti giunti alla conclusione che aveva ragione Louis Wirth, sociologo della scuola di Chicago, in mezzo a tutte queste scuole. Diciamo, lui ha avuto una soluzione, diciamo, alla Tico Brack sulla cosa e ha detto, guardate che possiamo dire che c'è una discriminazione sostanzialmente quando tu tratti diversamente una persona, che detta così, diciamo, sembra una cosa anche abbastanza banale, però in realtà è una cosa difficilissima da dire e ci è riuscito solo lui. E poi si sono impegnati, mi hanno detto, ma allora quando è che tratti diversamente una persona rispetto a una situazione? E anche qui le grandi scuole di sociologia sono, diciamo, giunti a delle conclusioni minimi. Diciamo, questo è il terreno comune di queste scuole, no? Poi litigano ovviamente su questa cosa accanitamente e presenteranno anche un esposto per risolvere la cosa e praticamente il terreno su cui sono riusciti a comporre buonariamente il conflitto è che praticamente tu puoi parlare di discriminazione quando tratti diversamente una persona, quando c'è un rapporto di dominanza, dipendenza ed esclusione, che può essere una dominazione perché magari c'è una, come pensiamo che accade in molti paesi africani, no? C'è una relazione tra etnie di tipo di dominazione, ci sono etnie che hanno completamente dominato le altre, altre invece che hanno creato delle condizioni di dipendenza, immaginiamo dipendenza economica, o semplicemente le hanno escluse. Dal mio modesto avviso è quando tu dici di no ad una persona, perciò vi ho messo Lomino che dice no, perché questa può essere la sintesi. E quando è che c'è una, quindi allora io so che c'è una discriminazione quando c'è Wirt che mi dice guarda tu tratti diversamente qualcuno, quell'altro che mi dice ci sono queste tre ipotesi, iniziamo a pensare mentalmente a quante sono le discriminazioni. La prima discriminazione che ci viene in mente è la discriminazione razziale. Storicamente sappiamo tutti che de Gobinot era uno scienziato diciamo che lasciava anche il tempo che trovava e lui fece un'intuizione scientifica, lui non sapeva che stava creando il razzismo perché lui stava facendo lo scienziato, disse guardate ebbe questa intuizione scientifica poco felice, disse l'essere umano è diviso in razze, però lui disse in realtà per scopi scientifici questa cosa, in realtà presse una cantonata. Però che è successo è che a un certo punto del Novecento si innamorarono tutti questi dell'idea e prende scoppiato il Novecento, non so come dirla diversamente, e quindi si è iniziato a creare correnti politiche contro correnti e tutti gli orrori che ben conosciamo. Che è successo? Che in realtà dalla discriminazione razziale sono successe un sacco di cose nella società, per cui la società, l'abbiamo detto in apertura, è in continua evoluzione, cioè quello che noi identifichiamo nel 1993 come fenomeno discriminatorio non è più attuale, ma anche quello che identifichiamo nel 2017 come fenomeno discriminatorio non è più attuale, cioè noi abbiamo visto mano a mano, mano a mano, mano a mano, che si allargano le maglie della discriminazione, perché si allargano le maglie della società. Allora che cosa è successo? Il problema è questo, che le istituzioni per il principio di legalità si muovono sulla base delle leggi. Allora abbiamo cambiato modo di fare le leggi. La regione Piemonte è una regione molto avanguardistica da questo punto di vista, anche perché ha delle avanguardie dal punto di vista di tecnica normativa. Nel 2016 viene fatta questa legge numero 5, che è le norme di attuazione per il divieto di ogni forma di discriminazione, parità e trattamento nelle materie di competenza regionale e fa una legge regionale per la materia delle discriminazioni. Che cosa fa? Finalmente ci dà delle definizioni, usa la tecnica europea di codificazione delle leggi, cioè ci dice che cosa è articolo 2, lettera ALR, parità di trattamento. Questa è la parità di trattamento. Lettera B, questa è la discriminazione. Se andiamo a leggere questa legge, vediamo che c'è una formulazione normativa che è assolutamente diversa dalla legislazione precedente, perché non ti dice che la discriminazione è solamente quella religiosa e solamente quella di tipo razziale, ma ti presenta una situazione. Guarda, ti dice, guarda, tutte le situazioni che comportano direttamente e indirettamente una distinzione, esclusione e restrizione. Il famoso terreno comune tra le varie scuole, no? Ho preferenza sulla base, su uno o più condizioni descritte dalla lettera A e che abbia lo scopo e l'effetto di distruggere, di compromettere il riconoscimento, il godimento, l'esercizio in condizioni di parità, di diritto umano e delle libertà fondamentali, eccetera, eccetera. Allora, io lo so che voi non ci credete, ma così è molto più chiaro. Che succede? Che la regione Piemonte istituisce il centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, che fa una serie di cose, ma quello che ci interessa di più è l'istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione. Questa è una cosa assolutamente importantissima perché significa anche garantire un accesso alla giustizia per queste persone. E poi che cosa fa? Nel novembre di quell'anno stipula un protocollo di intesa con l'OSCAD. E quindi, ora che abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, cioè di quali sono gli ambiti di azione dell'OSCAD, possiamo finalmente capire i risultati che abbiamo. Questa è una rilevazione che è stata fatta nel 2017, la 2018 è ancora in corso. Partiamo dal primo punto. Totale segnalazione. Voi siete preparatissimi sull'argomento, no? Quindi voi sapete che una segnalazione, quando viene fatta, perché viene fatta, da chi viene fatta, eccetera. Vedete c'è un crescendo negli anni, l'apice 2014, in quegli anni ci fu l'istituzione in materia calcistica dell'elemento discriminatorio, perciò c'è stato un crescendo. Che cosa succede? Totale delle segnalazioni. Numero 73. Fetta blu, reati di matrice discriminatoria. Hate crimes. Fetta rossa, reati di matrice non discriminazioni o discriminazioni che non sono reato. Voi ora siete preparatissimi. Cioè, voi sapete che questa fetta rossa è il caso della rapina che mi è stata segnalata come rapina discriminatoria, perché immaginiamo il soggetto rapinato, a me è successo un po' di tempo fa, aveva determinate qualità per cui normalmente queste persone possono subire fatti reato che rientrano nell'ambito discriminatorio. Io contatto l'OSCAD per dire, OSCAD mi sa che abbiamo un caso, approfondiamo insieme la cosa, perché loro hanno delle competenze tecniche superiori, quindi mi mettono a disposizione personale e alla fine riscontriamo che quella rapina, quella diffamazione, era sicuramente una rapina, una diffamazione, ma non aveva una funzione discriminatoria. La qualità del soggetto offeso mi aveva ingannato. Specchietto verde in trattazione, quindi poi scopriremo che cosa è successo in quei casi. Ora che succede? Di queste 73 famose segnalazioni, quindi per fare mente locale, sono sia le segnalazioni valide, sia le segnalazioni, tra virgolette, meno valide, nel senso che magari o non c'era l'elemento discriminatorio o non c'era proprio il reato, perché magari per esempio mancava una combinazione di procedibilità o un'altra situazione. Bene, che cosa succede? Quali sono i fatti discriminatori, le funzioni discriminatorie più ricorrenti? 52% discriminazione razziale etnica. È un fenomeno che abbiamo sotto gli occhi praticamente tutti i giorni. Disabilità 9,6%. Su questo io vorrei spendere due parole, perché è un impegno che ha assunto la questura di Torino, soprattutto nel 2016, quello di occuparsi delle ipotesi di abuso che coinvolgevano le persone disabili. Perché nel caso della disabilità noi abbiamo prendere dei dati completamente falsati, nel senso che ci sono due fattori che in realtà ci portano al fatto che noi non abbiamo la denuncia del fatto subito dal disabile. Il primo fattore è innanzitutto un fattore di natura pratica. Spesso questi atti di abuso sono perpetrati da soggetti verso cui la persona disabile è in relazione di dipendenza, quindi uno dei famosi elementi del territorio comune. E che cosa comporta? Che il disabile sa che se riesce a segnalare questa cosa perde il soggetto da cui ha una dipendenza economica o una dipendenza pratica al tipo logistica. E quindi ciò porta, per esempio, accade nelle ipotesi di maltrattamenti che queste ipotesi non vengono segnalate. Il secondo fattore è che a volte c'è proprio una difficoltà di natura tecnica, perché una persona che è afona, che è una persona che non può muoversi, non ha le stesse possibilità di una persona che non ha questa limitazione. Quindi è un dato che per assurdo noi leggiamo in positivo, cioè il fatto che ci sia stato il 10% di segnalazione. Noi diciamo 10% almeno sono riusciti a segnalare. Altre ipotesi di segnalazione, il credo religioso, orientamento sessuale, altro. Questi qua invece cambiano un po' i contorni delle fette, sempre gli stessi ambiti, perché sono quelle segnalazioni che erano valide. Quindi magari che c'era veramente il contenuto discriminatorio o c'era veramente l'elemento sicurezza, non se ne doveva occupare l'UNAR. E vedete come la discriminazione etica cresce al 61%, disabilità scende 7,3%, credo religioso cresce, 17%, orientamento sessuale 14%. Chi sono i soggetti segnalanti? 28%, forze di polizia, associazione, privati, quindi ci siete anche voi, 15%, spero che questa fetta crescerà. UNAR 30%, perché dal punto di vista pratico, oltre al fatto che se l'OSCAD ha fatto un protocollo con l'UNAR, è perché anche per adempiere al meglio i suoi compiti, ma anche perché tante volte all'OSCAD arrivano le cose dell'UNAR e viceversa. Mass media, i giornali ci aiutano tanto, perché spesso hanno la notizia prima di tutti quanti, specie nei casi in cui c'è il sommerso e quindi le vittime non denunciano. Nel tempo c'è stato un crescendo di determinati fenomeni, che sono quelli di razzismo e xenofobia, però noi le leggiamo anche come un crescendo di denunce, cioè ci sono purtroppo dei fenomeni che cambiano nel tempo e dei fattori che rimangono fissi. Con questo che cosa voglio dire? Che quando aumentano i valori, in alcuni casi si può dire che sta crescendo un fenomeno, in altri casi che sta crescendo la capacità di denunciare. Noi registriamo questo. Aumenta sicuramente i crimini d'odio, rimane ancora bassa quello delle persone con disabilità, altri casi nel 2014. Spero di essere stata abbastanza chiaro. Se ci sono domande, curiosità... Allora, intanto grazie per la relazione. Perfettamente nei tempi. Qualcuno ha delle domande o una domanda da porre alla dottoressa? Tengo conto, dottoressa, che nessuno appunto qui, penso che neanche i nuovi arrivati fossero a conoscenza di questo né OSCAD né di UNAR. Ma tra l'altro questi dati sono visibili sul sito web, credo, di OSCAD. Si possono fare il download da qualche parte o no? A me sembrava di sì. Qualche riflessione? Qualche... Gli vengono in mente delle situazioni del tipo, se l'avessi saputo magari avrei scritto questa e-mail a questo indirizzo? A qualcuno? O forse perché magari anche il nostro filtro su cosa valutare come discriminatore deve aumentare la sensibilità? Perché a volte uno non ci fa tanto caso, no? Sì, sicuramente c'è un problema di sensibilità e poi credo che oltre alla sensibilità su che cosa è discriminatorio, perché su questo sono abbastanza fiduciosa, nel senso io credo che la società di oggi, se non è una società migliore, è sicuramente una società molto più preparata sull'altro momento. Però tanto cambia su quanto conosci della situazione. I miei due fake casi che mi sono capitati ultimamente in un caso, era un caso appunto di una rapina in danno di un soggetto che apparteneva a una minoranza e quindi ovviamente siamo entrati tutti quanti in allarme, assolutamente Oscar! E poi ci siamo andati a parlare, cioè il problema è che questo c'era una BMW, cioè... era chiaramente di natura economica, non c'era nessun tipo di funzione altra. Un'altra volta mi è capitato con delle ipotesi di una diffamazione, quel più difficile che era in danno di un soggetto disabile, è un caso tipico, quello è un caso di scuola, quindi eravamo esplosi, finalmente facciamo la segnalazione a Oscar e quello era stato diffamato, ma per altri motivi, cioè non per la sua disabilità. Quindi per questo ho fatto questo richiamo all'inizio, cioè rivolgersi alle forze di polizia, oltre al fatto che è una necessità istituzionale perché poi se ci sono reati procedibili d'ufficio e la vittima non vuole, noi volente o nolente dobbiamo procedere perché così vuole la legge, ma anche perché attraverso il filtro della polizia abbiamo più strumenti di conoscenza per approfondire quella determinata situazione e capire se si tratta o meno di un fenomeno di natura discriminatoria. Qualcuna cosa da dire? Un'ultima riflessione rispetto, e poi arrivo all'altro relatore, pensando al fatto che la nostra sensibilità è migliorata, nonostante da un lato c'è un linguaggio becero, come dicevamo stamattina, giornalistico, e anche che sta diffondendo nella popolazione, quindi è vero che c'è questo clima, ma nel contempo c'è OSCAD, leggi, discussioni... Sicuramente c'è una sensibilità diversa, perché se ne parla semplicemente di più, sono argomenti di cui prima non si parlava, tanto fanno le istituzioni scolastiche, la scuola è più aperta al confronto, è più aperta alla diversità, quindi ci sono anche più occasioni di confronto dal punto di vista pratico. È un tutto da migliorare, dobbiamo migliorare sicuramente quello che è la coscienza dei nostri diritti, nel senso che sebbene Torino sia sicuramente una città sotto tanti profili felice da questo punto di vista perché c'è molta autocoscienza, c'è anche una certa tenacia nel volersi tutelare, però i dati, che poi non sono solo i dati delle discriminazioni, i dati che riguardano un po' tutte quelle che sono le ipotesi di violenza che coinvolgono una persona che si trovi per un modo un altro, consentitemi il termine tecnico, in minorata difesa, anche in minorata difesa sociale, rivelano che comunque c'è tanto sommerso. Quindi noi abbiamo delle forme di intervento falsate perché purtroppo per quanto possa essere forte l'impegno delle istituzioni in termini di presenza, l'impegno delle formazioni, tanto deve essere fatto da parte delle vittime che devono partire dalla precondizione di avere di fronte un'istituzione che non può comprendere o che non può essere sensibile a determinate tematiche perché le istituzioni nel tempo si sono impegnate per cambiare tanto e lo stanno cercando di fare in tutti i modi possibili attraverso la formazione, abbiamo un multiculturalismo all'interno delle istituzioni. Quindi c'è anche tanta paura di rivolgersi alle istituzioni perché si ha un'immagine sbagliata delle istituzioni. Forse questo è un passo che si può fare con più energia. Grazie ancora dottoressa per questo.